Ciao ragazzi, benvenuti su questo video, io sono E.S.E.L.I.S.E.U.N.I.C.O.N. E oggi messaggeremo che il cappello non gli farà uno scherzo Allora, ho scritto che c'è che fai niente E stagiamo un po' ok Di cosa parliamo? No E chissà, ne vado a un boccino Chi ti piace? Non lo dico a nessuno Ok, non ti preoccupare Tra l'altro il tuo fidanzato Per sé cosa che ti piacerebbe E... Dai Quando Non lo Ti piacerebbe Allora, ho scritto Dai, quando non lo conoscevi Che ti piacerebbe E il suo fidanzato Questo è il tuo fidanzato Grappa, si spera E il tuo fidanzato Perché no Scusate, ma non si come Scusate, ma no Perché per favore Non lo faccio Guarda Non lo vediamo un po' Non lo vediamo un po' Un po' Nero Raga, il mio telefono è scarico Adesso lo vado a mettere p lado Ok Hey, ti risponti perchè potete vedere questo video e lei mi ammazza lo so già ok ragazzi vabbè sicuramente vedrà questo video cioè lei mi segue quindi vabbè ragazzi sono torta ragazzi dovete vedere quanto sono ansiosa non lo dire a nessuno nessuna ok però raga può vedere le mie mie amiche spazzine nude e vabbè ok bucciamo un po' oddio è una cattrofaggia non so ma è stavolta ti piaceva? ti piaceva? allora che l'accia povera che è che povera ah non so perchè mi è venuto scuggiala ma che cosa no 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 perché la nutella dai no seriamente la nutella la nutella ma dai no dai no la nutella c'è ma tu mi hai fatto dare ansia c'è ma mi hai fatto dare ansia c'è ma mi hai fatto dare ansia che cavolo tra le modella tra le ultime tra le ultime dall'altra parte ci faccio ci faccio appunto oddio raga vabbè non si crede che ho fatto il video non si credo vabbè ciao non lo dire a nessuno capito oddio non mi bloccare ti prego se lei me lo fa io non gli dico a nessuno perché a me veramente non mi piace a nessuno quindi ok vabbè oddio che è successo ciao notte oh my god vabbè ragazzi questo era il video di convincere la checca di chi mi piaceva e l'abbiamo detto in diretta che bella la vita ok ragazzi checca dobbiamo abbracciare dopo che vedrai questo video e niente mettete like iscrivetevi al canale cliccate la campanella così non vi potete sapere il giorno e niente io sto scoppiando dalle sesate della mente e niente ciao ciao Ciao!